Prendi la borsa, ok? Oh questo è perfetto, ma anche questo, anche questo, no è bellissimo, è bellissimo questo, questo va benissimo, no è veramente elegante Quindi cosa prendi? Credo che prenderò solo questo completino Ok, allora ben solo questi Andiamo tesoro Allora, com'è andata? Benissimo, noi ormai ritorniamo al centro commerciale Spero che questo video vi abbia stappato un sorriso o almeno vi abbia fatto ridere E ovviamente vi è piaciuto No, noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao! Ciao!